Il Signore, Prima Samuele, capitolo 30, leggeremo con l'aiuto di Dio i versi da 1 fino a 8. Prima Samuele, capitolo 30, i versi da 1 fino a 8. A Dio vada la gloria. Tre giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli ammalichiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale, verso Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata. Avevano fatto prigionieri le donne, tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se ne erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero nella città, essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero, finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ainoam di Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigioniere. Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio, e disse al sacerdote Abiatar, figlio di Achimelec, ti prego, portami qua l'Ephod. E Abiatar portò l'Ephod a Davide e Davide consultò il Signore dicendo, devo inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò? Il Signore rispose, inseguila, perché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Amen. Preghiamo che il Signore guidi la meditazione della Sua parola. Signore, grazie, grazie per la Tua bontà, grazie per la Tua fedeltà, grazie per la Tua parola, perché essa è cibo per le anime nostre. Signore, siamo qui desiderosi di essere nutriti da Te, e Ti preghiamo che non il sermone di un uomo, ma un messaggio che viene direttamente dal cielo, dal Tuo cuore, possa raggiungere il cuore di ognuno di noi. Ti preghiamo che lo Spirito Tuo possa, oh Signore Dio, operare nelle nostre vite secondo il nostro bisogno, incidendo ogni parola che verrà da Te nella nostra vita affinché la possiamo praticare e la possiamo ricordare. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è con Te, benedetto in eterno. Gloria al Signore. State comodi, cari, gloria a Dio. Benedetto il Signore. In questo passo, tra le altre cose, troviamo dei consigli su come affrontare gli imprevisti della vita. Una breve premessa riguardo a quello che stava succedendo. Davide, come sapete, era perseguitato da Saulo perché Saulo aveva capito che lui sarebbe diventato il futuro re, non lo voleva, o meglio non voleva che questo avvenisse, di conseguenza cercava di ucciderlo. E nelle sue varie fughe Davide a un certo punto, e siamo praticamente in questi capitoli, si unisce ai Filistei e finge di essere dalla parte dei Filistei che erano nemici storici di Israele. E viene il momento in cui doveva essere fatta una battaglia contro Israele e siccome Achis, il re dei Filistei, credeva che Davide era sincero, gli aveva detto, vieni con noi che andiamo a combattere contro gli israeliti. Ma i generali, i principi dei Filistei, che avevano in qualche modo invece subodorato che Davide non era proprio diventato un Filisteo puro sangue, gli dissero al re che lo vogliamo a questo, mandalo via perché sicuramente ci farà qualcosa contro. E allora Achis, a suo malincuore, disse a Davide, senti, fa una cosa, tornatene a Siclag, dove ti trovi, che era nel territorio dei Filistei, e statene buono buono lì che noi andiamo, combattiamo contro Israele e vediamo come andrà a finire. Il problema è che quando Davide tornò a Siclag, che era il suo campo base, come abbiamo letto, non trovò nulla, perché gli Amalekiti, altri nemici storici degli israeliti, in una delle loro scorribande avevano incendiato il campo di Siclag e avevano portato via tutti, donne e bambini. Gli uomini naturalmente erano andati con Davide a combattere. E la situazione è questa, cioè si trovano lì e quando si trovano senza niente, abbiamo letto che alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. E voi immaginate queste persone che si trovano a non avere nulla, non solo da un punto di vista materiale, ma anche gli affetti più cari, non c'erano. E quindi di conseguenza si sentono senza nulla, senza niente, piangono, sono disperati, un po' come Job, che quando riceve la notizia che all'improvviso i suoi beni, i suoi figli, tutto era stato distrutto, rimane male. Certo dirà il Signore ha dato, il Signore ha tolto, si è benedetto in nome del Signore, ma nel suo cuore c'era dolore, c'era amarezza, altrimenti non sarebbe un uomo, significherebbe che non aveva dei sentimenti. Ora, la vita di ognuno di noi, anche se non in modo così catastrofico, riserva delle brutte sorprese, dei momenti in cui, cioè, le cose girano storto. Non ci piace, ma così è. E in questi momenti anche noi abbiamo la reazione legittima che ebbe Davide, che ebbe la sua gente, ci sentiamo amareggiati, ci sentiamo sconfitti, vogliamo piangere, e delle volte lo facciamo anche, alcuni lo fanno pubblicamente, altri lo fanno segretamente, però sicuramente le situazioni avverse non portano gioia, portano dolore. E questo perché siamo esseri umani fatti di sentimenti, e Dio sia lodato per i sentimenti, perché sono una parte del nostro essere, e se ne è qualcosa che ha toccato tutti nel corso della storia. Vi ricorderete, ad esempio, che Giacobbe, quando ebbe la notizia che suo figlio Giuseppe, notizia non vera, lo sapete, era stato divorato dalle belve, in realtà i fratelli di Giuseppe lo avevano venduto, e Giuseppe era andato a finire in Egitto, dice la Bibbia che Giacobbe si stracciò le vesti, si vestì di sacco, fece cordoglio per suo figlio per molti giorni, e mentre i figli e le figlie venivano a consolarlo, egli rifiutava di essere consolato, e diceva, io scenderò, scusate, io scenderò con cordoglio di mio figlio nel soggiorno dei morti, e continuava a piangere. Non solo l'amarezza, ma anche il rifiuto di essere consolati o di essere aiutati, capita quando le persone vengono, cercano di dirti una parola, ma tu gli dici, lasciami in pace perché voglio stare da solo, voglio stare con me stesso, voglio stare col mio dolore, con i miei sentimenti, ci sono questi momenti, siamo esseri umani, e non c'è nulla di che biasimare, né nulla di che meravigliarsi. Anche gli israeliti, quando si trovarono ad essere schiavi in Egitto, ero ormai da 430 anni che erano sotto il gioco di Faraone, arriva Mosè e gli dice, il Signore mi ha mandato per liberarvi, la liberazione per la quale avete pregato da tanto tempo e sta per arrivare, ma leggiamo che, come egli parlò agli israeliti, questi non gli diedero ascolto a causa dell'angoscia del loro spirito e della loro schiavitù. Quindi, come Davide, come Giacobbe, come gli israeliti, anche noi ci troviamo in delle situazioni nelle quali siamo disperati. No, i cristiani non sono mai disperati, teoricamente. Poi affrontiamo la realtà della vita e praticamente delle volte abbiamo questi momenti in cui diciamo, e mo', dove sbatto la testa? Momenti nei quali non vogliamo aiuto da nessuno, perché pensiamo che nessuno ci possa veramente aiutare, e quando qualcuno ci dice, il Signore è quello che ti aiuterà, gli diciamo, sì sì, ma nella realtà, dentro il nostro cuore, non ci crediamo. siamo esseri umani, esseri fatti di carne e ossa, che sono così fragili da avere questi momenti di caduta verticale. Nella famosa visione che Zechiele ha, capitolo 37, della valle con le ossa secche, egli dice, figlio il Duomo, queste ossa secche sono la casa di Israele, e sì, cioè la casa di Israele, dice, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Delle volte la pensiamo così. Non è una cosa lodevole, non è una cosa che Dio approva, non è quello che ci aspetteremmo, quello che aspetteremmo da noi stessi o dagli altri, ma è quello che viviamo. Il profeta Elia, il famoso profeta del fuoco, vi ricorderete che, apparentemente senza nessun motivo, prende, si isola, se ne va nel deserto, va dal Signore e fa questa preghiera, Signore, basta, prendi la mia vita, perché io non valgo più dei miei padri. Momenti in cui, addirittura, diciamo, sa qual è, Signore, la cosa migliore? Che saluto questa terra e me ne vengo da te. Questi sono i sentimenti che si agitano nella nostra vita. Ora, spero che nessuno di voi si scandalizzi, anche perché se vi state scandalizzando, vi state scandalizzando di voi stessi. E io mi scandalizzerei di me stesso. Sono, ripeto, cose che tutti viviamo, cose che tutti affrontiamo e delle volte in più occasioni durante l'arco della nostra vita. E allora, siccome questa è la realtà, cerchiamo di capire come si esce fuori da questa situazione, perché Davide e i suoi uomini furono amareggiati, non piansero fino a quando non ebbero più lacrime di piangere, ma non è che rimassero in questa condizione. Davide ci dà la via di uscita, ci insegna come venire fuori e Davide, da quello che leggo, non segue un corso che lo aiuti a credere in se stesso. Davide, da quello che leggo, non ingaggia quelli che oggi si chiamano i mental coach, cioè quelli che ti insegnano come uscire fuori dalle situazioni difficili. Davide, non comincia a seguire su Instagram qualche re di successo per capire come è uscito fuori dalle situazioni. Davide non fa un discorso motivazionale ai suoi seguaci per cercare di evitare che lo lapidino, perché parlavano di lapidarlo a Davide. Davide, abbiamo letto che si fortificò nel Signore, nel suo Dio, e poi consultò il Signore. E ci soffermeremo su queste tre cose. Innanzitutto, Davide si fortificò nel Signore. Ora, per fortificarsi nel Signore ci vogliono almeno due cose. e la prima cosa che ci viene chiesta è quella di riconoscere che non c'è un'altra soluzione all'infuori del Signore. Perché fin quando noi intravediamo un'alternativa al Signore, noi continueremo a sbattere la testa contro i muri, a farci un male cane e cadremo sempre più in basso perché come dice un salvo un abisso chiama un altro abisso. Ora, per confidare nel Signore come Davide fece, per fortificarsi nel Signore come Davide fece, è necessario uno che siamo umili e due che abbiamo fede. Umili vuol dire che dobbiamo arrivare al punto di dire Signore, io mi arrendo, alzo bandiera bianca, non ci provo più, fai tu le cose. Secondo, ci vuole fede, cioè credere che il Signore farà le cose perché se questi due elementi non si incontrano non riusciremo mai a fortificarci veramente nel Signore perché cercheremo con le nostre forze di fare qualcosa oppure vivremo sempre con l'idea vabbè sì, sono belle cose che si dicono in Chiesa che si leggono sulla Bibbia sul calendario ma poi non succedono e invece no perché il Signore è fedele ed Egli non abbandona quelli che sperano e confidano in Lui allora quando il momento delle lacrime arriva è il momento di fortificarsi nel Signore di avere l'umiltà di dire io non posso ma tu Signore sì tu puoi vi ricorderete che a un certo punto ai discepoli venne portato un ragazzo indemoniato e i discepoli che erano diventati anche abbastanza esperti nello scacciare i demoni vi ricordate che erano tornati dalla missione dei settanta Signore nel tuo nome anche i demoni c'erano sottomessi appena lo videra arrivare si guardarono in faccia e disse che problema c'è ordinaria amministrazione adesso ci mettiamo imponiamo le mani sgridiamo il demonio due minute si risolve al padre probabilmente gli rissero sta mano all'arte cioè non ti preoccupare hai trovato le persone giuste sta di fatto che questi hanno pregato ma sto demonio non è uscito tant'è che quando Gesù scesse dal monte perché Gesù insieme a Pietro Giacomo e Giovanni si trovava sul monte della trasfigurazione questo padre andò da Gesù e gli disse signore se tu riesci a fare qualcosa vedi però sappi che l'ho portato già ai tuoi discepoli ma non c'è stata trippa per gatti e Gesù lo guardò e gli disse se io posso se tu credi il problema non è quello che io posso fare gli disse in altre parole Gesù il problema è la fede che tu hai in me se hai la fede del centurione che aveva detto ma non a parole ma con consapevolezza di cuore non c'è bisogno neanche che vieni a casa mia a me basta che tu dici una parola e io sono sicuro che il mio servo sarà guarito se hai quella fede stai tranquillo il ragazzo sarà liberato ma se non hai quella fede il ragazzo non può essere liberato non perché io non possa ma perché tu non credi quindi per fortificarsi nel Signore bisogna avere umiltà quindi rinunciare all'idea faccio io in qualche modo fede credere che al Signore ogni cosa è possibile Davide dirà Signore tu esaudisci il desiderio degli umili e fortifichi il cuore loro cioè degli umili Dio può dare forza solo a quelli che umili sono perché come dirà il Signore a Paolo che aveva chiesto Signore ti prego ne ho guariti tanti mo c'ho questa spina nella carne guarisci pure me abbi pietà di me il Signore gli disse Paolo sappi che la mia grazia è sufficiente e che la mia potenza si dimostra in tutta la sua pienezza nella debolezza umana nell'umiltà c'è la gloria perché chi si innalza sarà abbassato ma chi si abbassa sarà innalzato quindi per essere fortificati bisogna essere umili e avere fede e riconoscere che quello che noi non possiamo il Signore lo può fare riconoscere e credere che come dice Isaia 40 egli dà forza allo stanco accresce il vigore a colui che è spossato e come aggiunge poi continuando in dei versi famosi che ben conosciamo mentre i giovani si stancono e si affaticano e i più forti vacillano e cadono quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze si alzano in volo come aquile corrono e non si stancano camminano e non si affaticano e allora Davide si fortificò nel Signore si umiliò ebbe fede in Dio ebbe la consapevolezza che il Signore avrebbe potuto fare ogni cosa ma attenzione non è che si fortificò in Dio si fortificò nel Signore il suo Dio cioè il Signore per Davide non era Dio era il suo Dio non era un'entità astratta che esiste nei Cieli ma era una realtà che gli apparteneva e lui apparteneva al Signore c'era questa reciproca relazione tra di loro il che vuol dire che Davide aveva fatto una scelta ben precisa nella sua vita cioè lui aveva deciso che il Signore fosse il suo Dio e che nessun altro all'infuori di lui potesse avere il predominio sulla sua vita Dio è il mio Dio questo aveva detto Davide sin dalla sua francellezza non era come i Samaritani dei Samaritani è scritta secondo Re è scritto scusate secondo Re 1741 che temevano il Signore e allo stesso tempo servivano i loro idoli i loro figli e le loro figlie avevano continuato a fare così fino al giorno di fino a questo giorno così come avevano fatto i loro padri e qui permettetemi un passaggio neanche noi dobbiamo essere come i Samaritani non possiamo essere un po' col Signore e un po' senza Signore per noi stessi ma anche per i nostri figli perché i figli dei Samaritani fecero quello che i loro padri avevano fatto e quindi nel comportarci nell'avere scusate un cuore integro che vuol dire interamente dedicato al Signore noi lasciamo una santa eredità ai nostri figli che poi se la vogliono accettare bene se non la vogliono accettare pazienza sapete che le eredità possono essere anche rifiutate ma noi speriamo e preghiamo uno che noi possiamo avere un cuore integro in modo tale che i nostri figli ricevano un buon esempio due che nessuno dei nostri figli rigetti questa santa eredità che vogliamo lasciare affinché possano anche loro amare e servire il Signore in altre parole come disse Gesù nessuno può servire due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro o avrà riguardo l'uno e disprezzo per l'altro Gesù scusate Davide aveva fatto del Signore il suo Dio non serviva due padroni serviva il Signore non aveva messo la mano all'aratro e poi si era guardato indietro aveva messo la mano all'aratro e andava avanti perché il Signore era il suo Dio quindi dobbiamo fortificarci nel Signore che deve essere però il nostro Signore il nostro Dio perché Gesù a un certo punto dirà perché mi chiamate Signore Signore e non fate quello che io vi dico affinché il Signore possa essere il nostro Dio non basta dire Signore Signore ma dobbiamo anche fare cosa quello che lui dice allora potremmo dire che il Signore è il nostro Dio quindi prima cosa Davide si fortificò nel Signore il suo Dio dopo che prese forza non è che disse ora che sono bello vigoroso prende parto e no ora che è bello vigoroso nella fede consulta il Signore perché Dio non lo ha fortificato per fare come si sentiva in cuore io mi sento di fare così oggi è una frase diventata anche nel nostro ambiente molto diffusa no no Davide disse aspetta prima di fare un altro passo anziché fare come mi sento fammi capire come si sente il Signore cioè quello che sente il Signore che sia giusto per la mia vita e noi pentecostali che siamo pentecostali di fatto e che per grazia abbiamo ricevuto la pienezza dello Spirito Santo dovremmo fare come Davide fece perché troppi pentecostali dicono ah io sono ripieno dello Spirito Santo vado dove lo Spirito mi guida è lo Spirito Santo o è il tuo Spirito e sto facendo un punto interrogativo perché è facile scambiare la voce del nostro Spirito con la voce dello Spirito Santo soprattutto quando vogliamo fare testardamente certe cose e mettiamo in bocca a Dio allo Spirito Santo delle cose che Lui non ha mai dette allora fortifichiamoci nel Signore e consultiamo il Signore perché cosa significa che cosa significa scusate consultare il Signore ora alcuni applicano un principio molto semplice pregano e siccome chi tace e consente prendono e partono signore posso fare questo vabbè il Signore non mi ha risposto nulla vuol dire di sì chi tace e consente quindi prendo e va no non funziona così tu preghi aspetti la risposta di Dio o no cioè quando tu fai una domanda a qualcuno di solito deve aspettare che quello ti risponda per sapere cosa ne pensa ecco consultare il Signore non vuol dire ti metti là Signore voglio fare questo tu che ne dici ah sì gloria a Dio il Signore tace quindi ha consente no non è questo consultare il Signore per altri consultare il Signore significa consultare le persone che la pensano come loro sono andato dalla sorella sono andato dal fratello che sono miei amici siamo chick to chick cioè siamo sempre insieme mi hanno detto che quello che penso io è giusto prendo e vado come Davide che va da Natan e gli dice Natan che faccio lo costruisco il Tempio al Signore e Natan gli dice tranquillo tutto quello che ti senti di fare farlo perché tu sei amato dal Signore solo che poi il Signore chiama Natan e gli dice bello ma chi ti ha detto di dirgli così mo tu torni e gli dici guarda che Signore mi ha detto che tu il Tempio non me lo devi costruire bella idea lo costruirà tuo figlio ma tu no perché ci dobbiamo rendere conto che se vogliamo ascoltare la voce di Dio non possiamo usare questi sotterfuggi sciocchi che servono soltanto a secondare il nostro ego perché se no cadiamo nell'errore che avvenne nell'Antico Testamento quando Giosafat disse il re di Israele ti prego consulta oggi la parola del Signore il re di Israele radunò i profeti che erano in numero di circa 400 e disse debbo andare a fare guerra a Ramoth di Galado o no e quelli risposero va e il Signore le darà nelle mani del re ma Giosafat che era un re che temeva il Signore non gli piaceva sta storia e disse al re di Israele non c'è nessun altro profeta del Signore da poter consultare e il re di Israele rispose a Giosafat c'è un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare il Signore si chiama Micaya ma io lo odio perché quando lo chiamo non mi predice nulla di buono ma soltanto del male e quindi io evito di chiamarlo e no non è questo consultare il Signore troppo comodo consultare quelli che ti danno ragione allora tu non stai consultando il Signore tu stai cercando di fare quello che vuoi mettendo a tacere la tua coscienza ma non funziona così altri invece hanno i veggenti c'è il santone o la santona solitamente nel nostro ambiente più le santone anche perché le donne siete di più nell'ambiente pentecostale io vado e chiedo a lui o vado e chiedo a lei perché lei o lui sono spirituali per amor di Dio io non metto in dubbio la spiritualità a nessuno ma stacci attento stacci attenta perché di santoni in questo mondo i santoni scusate in questo mondo ce li ha un'altra religione la nostra fede ci spinge a consultare il Signore perché noi possiamo accostarci a Dio nel nome di Gesù possiamo chiedere e dobbiamo imparare ad aspettare perché Dio non è come le macchinette del caffè che trovate nell'ospedale che mettete la monetina e vi esce il caffè dopo qualche secondo Dio vuole che noi aspettiamo il tempo che Dio ha stabilito perché lì si vede la nostra fede perché se sappiamo aspettare vuol dire che abbiamo fede nel Signore ma se non sappiamo aspettare vi piace o no vuol dire che fede nel Signore non ne abbiamo e allora Davide consulta il Signore e il Signore gli dà la risposta e consultare il Signore significa proprio questo fare quello che Davide scriverà in un suo canto Salmo 5 verso 3 al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno al mattino cioè prima di intraprendere una cosa all'inizio ti presento la mia preghiera poi attendo un tuo cenno aspetto e fin quando quel cenno non arriva mi sto fermo sto perdendo tempo no ne sto guadagnando perché se faccio come voglio io poi mi troverò probabilmente nei guai vi ricordate il popolo di Israele nel deserto prima di partire aspettavano che la nuvola o la colonna di fuoco si muovesse se si muoveva si muovevano loro ma se non si muovevano lì rimanevano non li sfiorava nessuno questa deve essere la nostra attitudine ci dobbiamo fortificare nel Signore il nostro Dio e dobbiamo consultare il Signore il nostro Dio muovendoci quando Egli ce lo dice è in un mondo come quello di oggi dove tutti sono spregiudicati dove tutti sono per questo motivo osannati in quanto fanno tutto quello che gli viene in testa di fare un messaggio del genere è sicuramente controcorrente lo so però è biblico e noi dobbiamo imparare non dal mondo che cosa ha da insegnarci questo mondo lo avrete in che rovina sta accadendo davvero volete prendere insegnamenti da questo mondo quando mio nonno era in vita mio nonno paterno mio nonno materno scusate aveva il medico che gli diceva non devi fumare che ti fa male ma glielo diceva mentre si fumava una sigaretta non gli ha mai creduto non lo biasimo il mondo di oggi è come quel medico che si fumava la sigaretta e ci vuole insegnare come vivere che credibilità e allora impariamo dal Signore che è credibile e che nel corso della storia ha sempre saputo guidare quelli che hanno sperato in Lui come dice Davide nel bellissimo Salmo 23 ha saputo sempre guidare quelli che hanno sperato in Lui lo leggo scusate perché la memoria delle volte può trarre in inganno lungo le acque calme ha saputo ristorare l'anima di quelli che hanno confidato in Lui conducendoli per sentieri di giustizia e delle volte quelli che confidano in Lui si trovano nella valle dell'ombra della morte ma lì non temono alcuna cosa perché perché il Signore è con loro e il bastone del Signore e la verga del Signore gli danno sicurezza avete presente il bastone del pastore è quello che usa usano anche i vescovi cattolici a quella cosa ricurva di sopra perché serviva a prendere la pecora per il collo quando provava a prendere qualche strada sbagliata e gli torna indietro e la verga serviva per dare qualche colpetto affinché se sbagliavano direzione lungo il cammino la pecora potesse capire no no devo andare dall'altra parte e noi vogliamo fare questo vogliamo consultare il Signore per lasciarci guidare del Signore quindi ci sono i momenti di disperazione sì ma in quei momenti ci fortifichiamo nel Signore il nostro Dio ci lasciamo guidare da Lui e alla fine come leggerete a casa spero nel continuare a leggere prima Samuele 30 Davide recuperò ogni cosa beni uomini donne e anche il rispetto e la stima di coloro che erano con lui e noi realizzeremo lo stesso un po' come Giobbe che alla fine della sua prova ebbe il triplo di tutto quello che gli era stato sottratto e Dio è sempre Dio ed è sempre lo stesso chiudiamo gli occhi chiniamo il capo vogliamo pregare il Signore con tutto il cuore e vogliamo rimettere la nostra vita nelle sue mani se stiamo attraversando un momento difficile vogliamo stamattina fortificarci nel Signore il nostro Dio consultarlo e aspettare un suo cenno e se questo momento difficile non lo stiamo attraversando ringraziamo il Signore ma preghiamo che queste parole o meglio le parole che abbiamo letto nella Bibbia possano rimanere incise nel nostro cuore per essere la guida quando il momento difficile arriverà gloria a nome dell'Eterno benedetto sei il Signore grazie a tutti